Ehi, sì, parlo proprio con te. Tu lo useresti un DAE. Che cos'è? È un defibrillatore automatico esterno e in certi casi l'unico strumento che può salvare una vita. No, non è pericoloso. Il defibrillatore è in grado di analizzare autonomamente la presenza di un arresto cardiocircolatorio e permette di erogare lo shock elettrico solo in presenza di cuore fermo. Sì, esatto. Questo significa che chiunque lo può usare, anche tu. Con un corso di poche ore potresti diventare esperto. Ma tutti guidati telefonicamente dall'operatore dell'112 oppure 118 possono utilizzare il defibrillatore. E se a sentirsi male è un bambino? Non ti preoccupare, ci sono dei dispositivi dedicati, ma in loro assenza è possibile usare il DAE per adulti. E non importa se ti trovi in un ambiente umido tipo una piscina o una pista da sci. Basta asciugare il torace dai liquidi o dal sudore. Per ogni minuto che passa, una persona in arresto cardiocircolatorio riporta il 10% di danni cerebrali. Non perdere tempo. Salva una vita. Tu puoi farlo. Visita il sito pvs-spa per saperne di più.